Musica Un cordiale saluto, buongiorno, ben ritrovati a tutti voi cari telespettatori di Fano TV siete sul canale 17 del digitale terrestre Fano TV come sempre puntuale tutte le mattine alle 7 e mezzo vi fa vedere i titoli delle notizie più importanti pubblicate sui quotidiani noi ne prendiamo in esame tre, in particolare quelli che hanno gli inserti dedicati alla provincia di Piesa Urbino quindi il Corriere Adriatico, il resto del Carlino ed il Messaggero allora cominciamo con l'almanacco però, il santo di oggi oggi la Chiesa Cattolica ricorda San Dionigi e i compagni, Vescovo e Martori il sole è sorto alle 7 e 14 e tramonterà alle 18 e 37 minuti oggi non c'è la disponibilità del sito della protezione civile delle Marche intanto vediamo, la regina ci manda in onda una immagine in diretta, con immagini in movimento in diretta di uno scorcio di Fano i fanesi hanno già capito di cosa stiamo parlando e di quale scorcio stiamo parlando vedete i giardini del Pincio con la rotatoria di Porta Maggiore che a quest'ora del mattino, 7.31, è decisamente ancora scorrevole poi arriveranno tra poco i pullman carichi di studenti quindi un attimino ci sarà qualche rallentamento però poi tutto sommato nel corso della giornata solitamente è una zona questa dove si passa a parte le ore centrali dove la gente esce o va in ufficio o ritira i ragazzi da scuola insomma ecco questi sono i momenti di gruppo per il resto va bene tempo così così ma sta per arrivare il tempo brutto questo l'abbiamo già detto più volte abbiamo fatto un collegamento intanto io mi sto collegando con il sito del meteo perché dicevo non abbiamo purtroppo il sito della protezione civile delle Marche questa mattina ecco siamo pronti andiamo a vedere che cosa ci attende per la giornata di oggi vedete la giornata di oggi è una giornata caratterizzata dalle nuvole mentre domani, domani arriva il tempo decisamente brutto in questo ciclone, questo ciclone è importante e vedete per le ore centrali dalle 11 alle 17 sono previste abbondanti pioggia addirittura 7-8 mm di pioggia allora insomma non è poco è da tenere sott'occhio questo ciclone che porterà appunto cattivo tempo nelle prossime ore allora il resto del Carlino questa mattina spazio al quadro ricorderete ritrovato questo dipinto di Isabella D'Este che è stato rinvenuto in un cavo di Lugano in Svizzera ci fu una conferenza stampa anche della procura proprio per dire che era stato trovato questo quadro importante ebbene questo quadro è davvero conteso da gente facoltosa da magnati c'è un'offerta da 140 milioni di euro questo quadro attribuito a Leonardo è al centro di una clamorosa asta sottotraccia l'avvocato Castignani dice il sequestro ha tratto altri facoltosi compratori ricordate dunque di questo quadro autentico o meno ha già battuto un record pur essendo tutt'ora in mano alla polizia svizzera una fondazione straniera è pronta a versare 140 milioni di euro per acquistarlo sotto l'intervista al procuratore Palumbo noi siamo pronti dice al processo e ci andremo con prove e riscontri certi il capo della procura annuncia la fine dell'inchiesta e sui tempi di consegna per i magistrati non c'è nulla di strano per le mancate risposte da parte della Svizzera l'arcidiocesi di Pesaro in lutto per la morte di Don Gino Rossini eccolo in questa bella immagine Don Gino Rossini ha lavorato al fianco di Monsignor Gaetano Michetti e dell'arcivescovo Angelo Bagnasco aveva 64 anni è stato stroncato dal cancro ha lottato fino in fondo ha lottato come un leone dice il vicario Don Roberto Sarti ha sempre minimizzato la sua malattia ed ha svolto il suo sacerdozio con grande passione e generosità aveva scoperto la malattia un anno fa e non ha mai smesso di stare vicino ai suoi parrocchiani ebbene oggi alle ore 18 ci sarà il rosario domani in Duomo alle 15 i funerali lo ricorderemo anche noi alle 15 nella diretta su Televoce Cristiana alle ore 15 diremo naturalmente il rosario e la coroncina della Divina Misericordia io ho avuto modo di ascoltare le sue omelie in questi ultimi mesi devo dire un parroco è vero quando dice quando scrive il giornale che non dava segni non faceva pesare la sua malattia è vero ci si è accorti di nulla e devo dire belle davvero belle molto belle le sue omelie quelle che ho potuto sentire negli ultimi mesi la pagina di Fano ospedaletto appello alla regione centro cure palliative pediatriche Elmo Santini dell'associazione Maruzza dice si rispetti la delibera il primo hospice per bambini esistente nel centro Italia nei locali che adesso sono vuoti poi tumori della mammella grazie alla fondazione Cassa dei risparmi di Fano ci sarà la radioterapia la fondazione destina a 1.300.000 euro nuovi strumenti in arrivo per il polo endoscopico e l'ondostomatologia mentre sempre sulla pagina di Fano del Carlino tre giorni sul palco giocando al teatro oggi domani e domenica alle ore 21 a Rosciano di Fano nel salone parrocchiale i ragazzi dell'oratorio presenteranno lo spettacolo Occhio alla cioccolata una commedia che cerca di mettere in risalto in modo giocoso i luoghi comuni del racconto del film giallo noir i giovani del Partito Democratico si sono arresi politica bollente a Fano attacco del Movimento 5 Stelle e Democratici accettata come inevitabile la staffetta Minardi Fulvi in questi giochetti si sono persi quattro mesi utili per il lavoro poi l'esponente del Partito Democratico Silvano Franchini in questa immagine e questo articolo non dimenticare i più deboli si parla della riduzione dei costi della politica e poi ancora l'assessore Paolini smetta di giocare al piccolo architetto sull'ex zuccherificio il capogruppo di Progetto Fano Garbatini parla interviene sui nuovi progetti che sono stati presentati appunto dall'assessore Paolini nei giorni scorsi Pergola blackout all'ospedale intrappolati per 45 minuti nell'ascensore disavventura per due os la donna è pure svenuta un signore in visita ha poi aperto le porte con i suoi attrezzi da meccanico e poi sotto invece la voragine di Orciano adesso si vuole sapere chi sono i responsabili di questo disastro il consigliere regionale Federico Talè presenta un'interrogazione sul crollo della strada provinciale 5 bis e adesso invece andiamo sul Corriere Adriatico la pagina di Fano in evidenza i furti la rafica dei furti i residenti sono terrorizzati il quartiere della Paleotta bersagliato dai ladri l'ultima vittima dice ci hanno portato via anche i ricordi abitazione a soquadro nelle vie Morandi Fattori e Boccioni pressoché tutte le case sono state svaliggiate Fanesi la politica se Seri lo vorrà sarò il settimo assessore il consigliere rinuncia alla corsa alla presidenza della Sisi Civica che andrà invece a Rosetta Fulvi la sconfitta dei giovani del Partito Democratico immobili solo tante parole il Movimento 5 Stelle contro l'esito del confronto per il rimpasto si sono persi quattro mesi di lavoro in trattative gestite dal segretario Gostoli secondo le previsioni e poi sull'ex zuccherificio negata la partecipazione politica le critiche di Progetto Fano allo studio dell'assessore e sulla seconda pagina di Fano del Corriere Adriatico non voglio perdere il nostro ospedale a Fano TV il sindaco ribadisce progetti alternativi a quelli dei politici del Partito Democratico su sanità acqua e rifiuti sto lavorando a proposte da presentare a Ceriscioli ha detto il sindaco difendiamo le concessioni pubbliche in house c'è un un bell'articolo di Lorenzo Furlani una bella sintesi di quello che è stato primo cittadino la puntata dell'altra sera qui su Fano TV al via itinerari e incontri il premio letterario alle iniziative al monastero camaldolesi di Fonte Avellana e nel centro storico di Fano poi sempre dal Corriere Braceschi nella palestra di casa saluto alla trave del preparatore atletico della nazionale olandese il 35enne ha conquistato il titolo di vice campione d'Europa con le donne orange e poi arretrati a Solaris per pagare gli autisti accordo siglato in prefettura i sindacati vigileranno sulle azioni della società di trasporti sanitari tamponato anche il caso Lenzuola presa all'ospedale la croce azzurra dotati di rotoli di carta addio ad Antonio morto dopo nove giorni di agonia il funerale nella chiesa di San Giuseppe oggi alle 15 Antonio Moscatelli il giovane appunto che è morto dopo nove giorni in ospedale nubi gassose oscurano la strada il comitato civico denuncia tre episodi di inquinamento legati alla lavorazione nel deposito di cereali e poi l'Avis di San Lorenzo in campo festeggia 40 anni di generosità la pagina di Senigallia invece anche qui furti a raffica auto e abitazioni nel mirino mentre centropagina caos parcheggi lira dei commercianti l'associazione di categoria convoca un'assemblea SOS amianto l'ala chiede la chiusura dell'ex sacelit o sacelit a Pesaro invece pronti al dragaggio definitivo il comandante annuncia l'accelerazione grazie ad ARPAM e al provveditorato subito i carotaggi si concretizza anche il progetto della stazione marittima nell'area dell'ex consorzio di scarica abusiva invece tra rifiuti e anche due auto la polizia intervenuta nel parcheggio che si trova accanto al capannone della Wurt caccia ai responsabili e adesso invece è la pagina di Pesaro del messaggero Fiorello Facentro scherzando con la pesaresità il debutto del tour alla Rossini coronato da un pieno di successo poi a centro pagina ufficiale banca Marche e salva il fondo interbancario approva la delibera per il salvataggio dell'istituto di credito in arrivo una cifra tra il miliardo e il miliardo e mezzo di euro le fondazioni sono soddisfatte poi a centro pagina la provincia investe estanze a 3 milioni di euro per la scuola fondi e nuova sede per il Santa Marta e anche qui sul messaggero il ricordo di Don Gino morto ieri arcidiocesi in lutto storico rettore del Duomo era malato da tempo ha celebrato messa fino a martedì quando poi si è aggravato andiamo per chiudere sulle pagine interne del messaggero la Coppa Davis all'Adriatic Arena il sindaco ci crede ricci manca l'ufficialità ma siamo molto fiduciosi che la scelta possa ricadere proprio sulla città di Pesaro struttura adatta entro novembre finiranno i lavori al tetto reazione entusiaste dagli albergatori e poi ancora discarica abusiva tra uffici e negozi blitz della polizia in via degli abeti e a questo punto devo fermarmi perché il computer ci ha dato il touchscreen ci ha dato un messaggio di errore improvviso però siamo fortunati perché l'ha riaperto subito e chiudiamo con la pagina di Fano del messaggero l'ex zuccherificio rinascerà all'ombra delle due torri pronto il nuovo progetto per l'area dopo la variante bocciata in consiglio tornerebbero anche le strutture cilindriche demolite durante la bonifica e su questo noi ieri vi abbiamo lanciato proprio qui dalla rassegna stampa da Occhio e Giornali l'invito a farci sapere che cosa ne pensate se per voi è una cosa bella rivedere e riavere queste due torri cilindriche come simbolo della città di Fano di nuovo ricostruite oppure no e devo dire che con sorpresa insomma sono più i favorevoli che i contrari alla ricostruzione delle torri che naturalmente non saranno torri così come le abbiamo conosciute per tanti anni saranno funzionali ad ospitare anche che so qualche cosa all'interno insomma non sono una volta servivano per lo zuccherificio questa volta certamente no quindi però ecco molti ieri sera nel telegiornale abbiamo intervistato anche una famiglia che ha abitato lì a due passi da queste torri e diceva con un po' di nostalgia quando si ritornava si arrivava a San Costanzo si arrivava da lì da là insomma già si vedevano svettavano queste due queste due torri ma anche svalicando per dire l'autostrada provenendo da Riccione da Cattolica insomma ecco la prima cosa che notavi erano questi due enormi cilindri quindi quando vedevi questi due cilindri ti si apriva il cuore e dicevi ecco siamo arrivati a Fano bene questo è tutto per la rassegna di oggi ci fermiamo qui vi do appuntamento questa sera c'è il telegiornale come sempre alle 20.30 e poi il nostro sito internet occhioalanotizia.it che come sempre è aggiornato in tempo reale buona giornata a tutti voi grazie a tutti